Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo un nuovo dispositivo, un registratore audio occultato in un telecomando. Come potete vedere è di piccole dimensioni, sembra un telecomando classico per aprire un cancello, però all'interno c'è un registratore audio ad alta potenza. Il registratore ha due modalità di funzione, sia la modalità box, quindi attivazione del rumore, quindi significa che quando ci sarà un rumore il dispositivo si attiverà, quando non c'è rumore va in stand-by, oppure ha la funzione di registrazione in continuato, quindi quando verrà attivato registrerà fino a quando la batteria non si scarica o viene spento. Il dispositivo ha una memoria interna integrata di 16 giga, ha una durata in stand-by di una settimana e di circa 20 ore di registrazione effettiva. Nella confezione troveremo un cavetto, quindi possiamo collegare il dispositivo direttamente al computer e scaricare i dati. Il dispositivo è disponibile presso il nostro sito, per qualsiasi informazione potete contattare direttamente la Dr. Spy. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.